rame amplificatore luminoso ancora rame blastotron 9000 ue ue ragazzi e bentornati oggi andremo aprire un casino di lama fantascientifici ho farmato la bellezza di 24.000 biglietti con le wargames semplicemente giocando nella mia casa base e adesso andrò a spenderli insieme a voi mi raccomando ricordatevi di lasciare solo un bel like al video cominciamo subito riesco ad aprire 48 lama raga ne faccio 20 e 20 si comincia con i primi 20 sapete cosa succede al primo lama aperto se non lo sapete lo scoprirete presto velocizziamo velocizziamo che 48 lama sono tantissimi da aprire non so se ve li faccio vedere tutti in questo video magari ne apro solamente 40 magari solo 20 allora rame mini blastotron oppure rame gamatron 9000 premesso che le vorrei tutte e due però in primis mi interessa questa esteticamente vorrei provare assolutamente questa secondo lama terzo lama un altro gamatron 9000 beh è già il secondo preferivo l'altra arma a questo punto però si sa meglio completare il registro meglio tenersene una e comunque cercare quelle con le perk particolari ricordo che ancora non ho guardato nulla quindi non so che perk aspettarmi sono davvero davvero curioso voi raga eccola qui la pistolina che non ho fatto neanche devo vedere come si chiamava raga lunamastino tutti questi eroi a noi non servono ovviamente cyber clope questo mi interessa tantissimo tutti gli eroi con tutte queste perk nuove sicuramente hanno dei vantaggi che non possiamo sapere li scopriremo in futuro nei prossimi video ovviamente vedremo tutto piano piano io cercherò di dimostrarvi tutte le cose belle diciamo rame bast rame blastotron 9000 ecco qua anche il cecchino usano tutti c'è la maggior parte delle armi usano colpi energetici ho visto c'è il martello che sembra alquanto figo almeno esteticamente è molto molto figo l'ho visto nel registro raccolta però ancora non l'ho vinto spero proprio di vincerlo ecco qua un altro eroe che non ho fatto in tempo vedere come si chiamava rame contorci abietti eccolo qui raga il martello che vi dicevo è troppo bello troppo bello perché così vanno e spariscono rame blastotron 9000 questa volta progetto leggendario dai spero di aver trovato qualche perk particolare un altro contorci abietti e di e e oddio come si chiamava questo questo eroe come si chiamava aveva un nome stranissimo ok ora ci fa scegliere scegliamo rame blastotron 9000 o rame amplificatore luminoso atomico questo l'ho trovato prima infatti mi dice che già ne ho uno quindi uno l'altro è indifferente l'importante è che mi capiti quello che non ho scelto un'altra volta no diciamo ancora 7 lama però ricordo che questa è solo la prima manche ken intergalattico anche lui alquanto figo non mi ricordo già tutte le perca memoria quindi raga portate pazienza se non vi sto a spiegare che perca ognun eroe eccetera eccetera perché a memoria è praticamente infattibile io sto facendo questo lama opening subito appena è uscito l'aggiornamento no rame amplificatore luminoso ancora rame blastotron 9000 quanti li ho trovati di sti blastotron 9000 già tantissimi rame straterrestre bella le skin sono alquanto belle raga tutte quelle che ho visto finora sono veramente veramente belle le ho viste anche nel registro raccolta sono veramente veramente belle finito il video ve le faccio vedere anche dal registro in caso non trovo tutto come è molto probabile che sia rame con torce abietti perfetto anche questo l'abbiamo trovato leggendario questo martello sono curioso raga che vi devo dire sono veramente veramente curioso di portarlo su potrebbe essere molto simile allo schiantatore windertech secondo me però vi ripeto bisogna provare le armi prima di poter giudicare ispezionarle e soprattutto vedere le perca che è possibile metterli stiri rame mini blastotron potrei venderli al mercatino dell'usato ormai talmente ne sto trovando rame gamatron 9000 ok penso di aver trovato più o meno tutte le armi andiamo a vedere andiamo a vedere direttamente dal registro raccolta così possiamo vedere con una visione più chiara allora dei personaggi eventi non li ho trovati tutti però io vado a iniziare a mettere quelli che ho trovato viola nel registro iniziamo a buttarceli cioè metto solo quelli viola di cui ho trovato già anche la variante oro non si sa mai che devo fare un video comunque su uno di questi eroi e non lo trovo oro per dirvi quindi mi risulta difficile quindi per il momento me li tengo così vediamo invece le armi che le ho trovate tutte quante raga tutte quante quindi io vado a metterne una di ognuna nel registro forse tranne di questa che non l'ho trovata oro quindi non l'ho trovata la variante leggendaria più o meno due di tutte le armi e abbiamo trovato e così abbiamo fatto anche tutto il registro ora sono curioso di vedere anche più o meno del loro perk abbiamo purtroppo ancora qualche traduzione sbagliate inglese ma non tutte sull'ultima per che come potete vedere comunque i danni critici causano sette proiettili esplosivi che si spargono nell'area può essere verificato solo ogni tre secondi ok questa in sostanza è la perca è molto particolare sicuramente non posso dirvi così com'è come sarà eccetera eccetera andrà vista con calma e fatto anche un gameplay poi abbiamo il martello colpire un nemico con quest'arma conferisce più 6 a livello critico per 5 secondi è cumulabile fino a 5 volte quindi abbiamo più 6 a livello critico per 5 6 per 5 30 più 30 a livello critico che è cumulabile fino al massimo quindi fino a 30 appunto ciascun colpo sparato conferisce più 1,8 per cento a livello critico 1 per secondo è cumulabile fino a 15 volte quindi avremo che ogni colpo sparato ci aumenterà 1,8 per cento di livello critico però solo una volta al secondo ed è cumulabile fino a 15 volte sarà molto molto ottime sarà molto molto ottima secondo me con armi che sparano molto molto lente tipo il duetto per farvi un esempio ciascun colpo sparato conferisce ancora la stessa perk identica prima questa è la mia variante sono curioso anche di vedere le varianti delle asce ecco perché adesso aprirò altri lama ma non vi faccio vedere tutta la clip ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.